Ogni cittadino deve impegnarsi per contrastare il coronavirus. La socialità va in parte sacrificata per evitare il diffondersi dell'epidemia. Il Comitato Scientifico del Governo raccomanda nuove norme di prevenzione per i prossimi 30 giorni. La prima regola da rispettare è la distanza di sicurezza fra le persone di almeno un metro. D'ora in poi ci si saluta da lontano, stoppa strette di mano, baci e abbracci. Bisogna evitare i luoghi affollati. Chi manifesta sintomi influenzali deve rimanere a casa, anche se non sospetta di avere contratto la polmonite virale. La maggior parte di congressi, fiere ed eventi sono già stati posticipati nel nord Italia, ma d'ora in avanti è consigliata la sospensione di ogni manifestazione che implichi i raduni. Nei cinema e teatri, tuttora operativi, viene suggerito di lasciare un posto vuoto ogni due spettatori. Le partite di calcio potrebbero essere disputate solo a porte chiuse. Chi pratica sport non deve scambiare bottigliette per dissetarsi. È sconsigliato uscire agli ultra 75 anni, così come agli over 65 affetti da patologie. Per loro meglio non incontrare estranei. Le attività ricreative vanno organizzate all'aperto. Quando si starnutisce o tossisce bisogna utilizzare un fazzoletto da buttare via subito. In mancanza di questo è meglio farlo nell'incavo del gomito. Le nuove disposizioni si aggiungono alla profilassi di base più ripetuta in questo periodo, lavarsi le mani spesso o pulirle con soluzioni disinfettanti. Un cambio di stile di vita indispensabile per superare l'emergenza.